Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sono la principessa di casa, infatti. Io ho una coroncina e me la metto ogni tanto, anche quando vengono le mie amiche, soprattutto quando vado a ballare, sempre. Sono la stella delle discoteche. Sono Luna, ho 15 anni e voglio essere la prima donna a pilotare le frecce di colori. Ovviamente costile. Io frequento l'Istituto Aeronautico di Roma finito il primo anno. Vorrei pilotare o aerei di caccia, o militari, comunque sempre nell'ambito aeronautico. Finora ho sempre raggiunto i miei obiettivi. La mia macchinetta si chiama Tiffany. Mi papà è venuto due giorni dopo il mio compleanno e mi ha fatto la sorpresa col mega fiocco. Abbiamo comprato questa macchinetta con tanti sacrifici. Ti piace? Bellissimo. Quattro giorni dopo... Purtroppo si è cappottata con la macchina. Però si è ripresa subito. Non ha subito dei traumi eccessivi, perché poi ci hanno detto che fa delle sedute dallo psicologo, però forse il psicologo le fai sedute da lei. Non hai molto invidiata. Soprattutto delle ragazze. Senza motivo. Senza motivo. Senza motivo. Sono proprio di un altro livello, più superiore. Sì. E non metto a pareggio queste sciacquette. Grazie. 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 Grazie.